E salve a tutti ragazzi, io sono OpoDeBob, bentornati sul mio canale e oggi vi porterò un breve video per portarvi delle news riguardanti il mondo dell'informatica. Eh sì, perché per tutti di quelli di voi che stanno cercando delle occasioni, la prossima settimana potrebbe essere quella giusta. Infatti, nei prossimi giorni si terrà la Amazon Gaming Week e partirà particolarmente il 12 giugno, ovvero questo lunedì, per 7 giorni fino a domenica 18. In questa giornata di sconti potete trovare numerose offerte, come riportate dalla notizia di Tom's Hardware, potete trovare numerosi sconti riguardanti tutte le categorie del mondo dell'informatica, dalle periferiche, i giochi, schede video, processori e tutto quanto possa servirvi per comporre il vostro computer o semplicemente per un semplice upgrade. Quindi, se quello che stavate cercando è l'offerta o magari state per acquistare un nuovo componente, un nuovo pezzo e volete spendere meno o comunque una cifra interessante, io vi consiglio di dare vivamente un occhio. Come sempre, durante questa settimana ci saranno le cosette offerte della settimana, quelle che dureranno dal lunedì 12 fino alla domenica 18, ci saranno le offerte del giorno, classiche di Amazon, durano per 24 ore o fino all'esaurimento dei pezzi disponibili, e poi ci sono le cosette offerte lampo, quelle che durano solo per un tot di ore, possono variare dalle 6 alle 8 ore, e sempre comunque fino all'esaurimento scorte. Io vi consiglio, se non avete l'Amazon Prime, di farlo. Perché? Intanto perché l'Amazon Prime è gratuito per i primi 30 giorni. Quindi, se volete usufruire delle spedizioni gratuite in pochi giorni, addirittura un giorno lavorativo o due, se il prodotto è immediatamente venduto e spedito da Amazon, oppure comunque non oltre i due o tre giorni lavorativi, se è venduto da terze parti e spedito da Amazon. Io vi lascerò comunque il link per poter iscrivervi al programma Amazon Prime gratuitamente, ve lo ripeto, gratuitamente per i primi 30 giorni. Quindi voi potete semplicemente, se non ne disponete già, usufruirne il vostro account Amazon Prime, usufruirne gratuitamente per i primi 30 giorni, quindi acquistare eventualmente i prodotti scontati durante l'Amazon Gaming Week e farveli spedire gratuitamente, quindi senza aggiungere ulteriori soldi a quello che avete già speso, con Amazon Prime, quindi questo è veramente un vantaggio. Poi, se non vorrete, basterà semplicemente che non rinnoviate il consenso ad Amazon Prime, ma comunque io vi consiglio vivamente di provarlo per 30 giorni. Io l'ho provato personalmente anni ed anni fa, ho iniziato ovviamente con la prova gratuita, mi sono trovato bene, il costo è di soli 19,99 euro all'anno, ma vi assicuro che anche se voi effettuate quei 2-3 ordini all'anno, vi sarete già ripresi delle vostre spedizioni e comunque del costo del servizio. Inoltre, come vi dicevo, il servizio vi garantisce spedizioni veramente, veramente molto, molto rapidi. Quindi ragazzi, se anche voi siete in procinto di cambiare un pezzo, state per acquistare una nuova periferica, sia se una tastiera, un mouse, dovete cambiare qualche componente del vostro computer, date sicuramente un'occhiata la prossima settimana, lo ripeto, da lunedì 12 a domenica 18 all'Amazon Gaming Week. Importanti offerte a tempo, lampo e soprattutto, vi ripeto, se siete membri Prime potete usufruire delle spedizioni gratis, ma, e questo l'ho tenuto alla fine appositamente, le offerte per i Prime member iniziano sempre un'ora prima, quindi potete usufruire non solo delle spedizioni gratis, ma rispetto a coloro che non hanno il Prime member, potrete poter acquistare l'articolo che avete visto un'ora prima dei vostri concorrenti o di coloro che comunque non hanno il Prime member. Quindi ragazzi, se anche voi siete interessati o siete in procinto di fare un acquisto, fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere cosa ve ne pensa di questa Amazon Gaming Week, se siete già iscritti alla funzione Prime di Amazon, e anche per questo breve video news è tutto, io sono ApoDeBomb, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e alla prossima ragazzi!